La Bielorussia, uno dei pochi paesi al mondo a non aver imposto misure restrittive e severe per combattere la pandemia di Covid-19, non è di certo scampata. Questa seconda ondata con i nuovi casi che da oltre un mese superano le mille unità giornaliere. Il contestatissimo presidente Alexander Lukashenko ha più volte parlato di psicosi, suggerendo alla sua popolazione, tra l'altro, di bere vodka, farsi una sauna e lavorare di più per sconfiggere il virus. Non sorprende quindi che durante una visita in un ospedale di Minsk il capo di Stato non abbia rispettato la consueta profilassi, neanche quando si è trovato di fronte a una paziente Covid. Lukashenko le ha prima stretto la mano, si è poi tolto la mascherina FFP2 che indossava perché la donna potesse riconoscerlo e infine le ha dato nuovamente la mano. Alla faccia delle misure sanitarie.